Alessandra Grandelis, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare un libro che abbiamo letto con una straordinaria curiosità, perché già il titolo di un libro ti porta, ti accende o meno una certa curiosità, il telescopio della letteratura. Ora, chissà cosa c'entrerà mai l'oggetto telescopio con l'argomento della letteratura, lo scopriremo fra poco ma non troppo per lasciare poi spazio, ovviamente, ai prossimi lettori di questo libro. Gli scrittori italiani è la conquista dello spazio, della colana Overlook. Degli editori Bompiani leggo nel risvolto di copertina che Alessandra Grandelis, è nata a Belluno, svolge la sua attività di ricerca sulla letteratura italiana contemporanea all'Università di Bologna dove vive. Da tempo si occupa dell'opera di Alberto Moravia, oltre alle ultime edizioni dei romanzi, gli indifferenti e la noia, per Bompiani ha curato i volumi che raccolgono le lettere del giovane scrittore, tutta la corrispondenza Elsa Morante, gli scritti d'arte, le poesie e gli articoli americani. Alessandra Grandelis, partiamo proprio dalla sua sede di lavoro, l'Università di Padova. Lei ricerca continuamente le possibilità di studio e di scrittura e quindi di argomentazione sulla letteratura italiana contemporanea dall'Università di Padova, che tra l'altro abbiamo già raccontato alcune volte l'Università di Padova recentemente, perché ci stiamo avvicinando il prossimo anno a un anniversario veramente molto importante. Se quest'anno c'è l'anniversario di Dante, 700 anni, l'Università di Padova il prossimo anno compirà 800 anni. Noi ne abbiamo parlato anche con Annalisa Oboe, tempo fa, la prolettrice dell'Università di Padova. Ecco, è un'università che nel corso del tempo, Alessandra Grandelis, ha lasciato un segno, ha creato un solco da Elena Lucrezia Cornaro in poi, si potrebbe dire. Sì, è vero, è una delle università sicuramente più importanti perché qui si è laureata appunto la prima donna e quindi questo è stato un traguardo, voglio dire, un traguardo e un inizio fondamentale, ma è un'università importante anche perché qui è transitato anche Galileo Galilei e è proprio da questa università, grazie anche a questa università, che Galileo Galilei ha portuto studiare il cielo, ha portuto puntare appunto il telescopio, il telescopio su cui aveva lavorato per arrivare lontano, arrivare lontano con lo sguardo e quindi in qualche modo ecco, l'università unisce tanti nomi e unisce anche appunto Galileo Galilei che è uno dei protagonisti in qualche modo di questo libro e del telescopio della letteratura. Certo, perché quel telescopio che lui puntava, lui che era giunto a Padova verso la fine del Cinquecento, spero di non sbagliarmi perché aveva ottenuto la carica di insegnamento alla cattedra di matematica e quindi ha passato più o meno circa vent'anni straordinari di grandissima ricerca perché certo se non ci fosse stato Galilei non ci sarebbe nemmeno stato questo libro, Alessandra Grandelissa. E veniamo subito a raccontare queste pagine che sono introdotte da tre citazioni, Walter Benjamin, Antoine de Saint-Exupéry e Italo Calvino. Ecco, ci sono cose che solo la letteratura può dare con i suoi mezzi specifici, questo lo diceva nelle lezioni americane Italo Calvino. Ecco, quali sono queste cose specifiche che la letteratura ci può dare attraverso il tempo? Allora, parliamo proprio da questo presupposto che anche in questi nostri giorni, in cui si parla molto di spazio, perché è ripresa la corsa allo spazio dopo questa prima era spaziale, che va dal lancio dello Sputnik nel 1957 all'ultima missione lunare dei sovietici nel 1976, ecco che noi oggi stiamo proprio rivivendo un rinascimento spaziale. E quindi ho sentito l'esigenza, anche se era un progetto in qualche modo che incubavo da tempo, ma ho sentito proprio l'esigenza di raccontare come gli scrittori hanno interpretato la conquista dello spazio e poi quello della luna. La conquista della luna ovviamente è l'apice di questa corsa spaziale. Ecco, la letteratura affronta con quelli che sono i propri mezzi, che sono le forme date alla narrazione, la lingua, i temi, quelli che sono i grandi eventi storici, le grandi cesure di fronte a cui l'uomo si trova e la conquista dello spazio è una grande cesura. E gli strumenti della letteratura sono strumenti che, magari insignificanti per altre discipline, apparentemente, sottolineerei, insignificanti per le altre discipline, però sono anche mezzi che mettono proprio in rilievo quegli elementi che sfuggono alle altre discipline e che invece sono disvelanti rispetto a quello che è il rapporto dell'uomo con il mondo e in questo caso possiamo dire con la vastità dell'universo, con la vastità del cielo dove da sempre si proiettano quelli che sono i grandi interrogativi antropologici dell'uomo, della vita e della morte prima di ogni altra cosa, ma lì lanciamo anche le nostre speranze, i nostri sogni, i nostri desideri. Ecco, quindi era importante in qualche modo far sentire la voce degli scrittori per riappropriarci anche del cielo dopo la sua conquista in modo critico e in modo creativo anche e tornare appunto a fare esperienza del cielo attraverso gli scrittori. E credo che ovviamente i testi letterari vanno sempre anche attualizzati. Noi dobbiamo in qualche modo strappare anche i testi letterari alla loro eccoca per trascinarli nel presente e anche oggi in cui sta avvenendo qualcosa di importante nel cielo, davvero la letteratura ci aiuta ad essere vigili e avere più strumenti per la comprensione. A voglio, altro che strumenti per la comprensione. Poco fa Alessandra Grandelisci parlava di rendere contemporanea la parola della letteratura, ma è pur sempre contemporanea, che ne so, ricordo, lei nelle prime pagine del suo saggio parla di un certo Giacomo Leopardi. Ecco, certo Giacomo Leopardi che così tanto ha narrato il cielo, non certamente per la conquista della Luna che era ancora molto di là da venire, però con quel suo famoso verso, che fai tu Luna in Ciel, dimmi che fai, fino ad arrivare alla sua storia dell'astronomia, passando per lo Zibaldone. Ecco, Giacomo Leopardi credo che siano dei passaggi più straordinari, oppure sbaglio? Leopardi è sempre presente, è sempre vivo, come la letteratura ovviamente di tutti i secoli. Sta appunto noi lettori, critici in qualche modo, comunità che interpreta i testi, farli vivere dentro il nostro presente. Ma Giacomo Leopardi è fondamentale, ovviamente, per parlare dello spazio dentro il Novecento. Innanzitutto perché è proprio colui che consente di coniugare la Luna poetica con anche la Luna della scienza. Questa è la sua grande forza. E questo ovviamente è un dono prezioso che gli scrittori del Novecento portano appunto con sé. E Leopardi, proprio anche grazie al dialogo con la Luna, penso a delle pagine magnifiche delle operette morali, cosa fa? Distrugge quella che è la visione antropocentrica appunto dell'uomo. E in qualche modo, quando poi avviene la conquista dello spazio e quindi l'uomo viene proiettato in dimensioni sempre più grandi e lì abbiamo, in quel momento in cui vediamo la Terra appunto da una prospettiva diversa che galleggia nel buio, allora lì comprendiamo la marginalità, davvero la marginalità dell'uomo. E Leopardi quindi è in qualche modo una guida, un grande padre culturale che serve agli scrittori per ridiscutere quella che è la posizione dell'uomo nell'universo. Altro che ridiscuterla, ma siamo reddici da una giornata come quella di ieri, che era la giornata della Terra. E discutere della Terra vuol dire non solamente guardare sotto i nostri piedi, ma vuol dire anche guardare in alto, guardare allo spazio, perché la Terra non è disgiunta dallo spazio, è in stretta relazione, non c'è una separazione, c'è un'osmosi continua. E questo osmosi forse la letteratura può aiutarci a comprenderla, se non a comprenderla quantomeno Alessandra Grandelisa ad avvicinarci. la letteratura che si accorge molto prima delle cose, prima che appaiono di questo che lei chiama il ponte tra il cielo e la sorte umana sul pianeta Terra. Sì, è proprio così. Innanzitutto mi piace ricordare proprio un giorno dopo, la giornata della Mondiale della Terra, che il nostro pensiero ecologico nasce, sembra essere nato proprio dallo spazio. immagini icona del secolo scorso come Blue Marble, Earthrise, appunto era come dicevo prima, fanno scoprire la bellezza del pianeta della Terra, così che galleggia nel buio, così azzurro. Quindi è proprio lì che nasce il nostro pensiero. Ed è interessante, perché proprio gli astronauti, che hanno avuto anche la possibilità di godere, ecco, della bellezza del cosmo, però quando vedono la Terra, dicono la Terra appare come un oasi, come un oasi irrinunciabile. E nessuno fra l'altro degli astronauti che ha viaggiato nello spazio, viaggerà ancora dopo aver compiuto le grandi imprese. Quindi questo è un elemento in qualche modo da sottolineare ed è vero per gli scrittori Terra e Cielo sono uniti, così come sono uniti per gli uomini. Ed ecco che per quello la definisco nel libro la letteratura come un telescopio, anzi un doppio telescopio, perché la letteratura in quegli anni di conquiste spaziali è un telescopio da puntare dalla Terra al cielo per vedere proprio cosa sia rimasto dell'ignoto durante e dopo la corsa allo spazio, ma diventa anche un telescopio da puntare dal cielo e dalla Terra per vedere le trasformazioni del pianeta, ma soprattutto le trasformazioni dell'Italia, dell'Italia del miracolo economico e quindi attraverso il cielo noi possiamo vedere anche quelle che sono le rimozioni del miracolo. Quelli che sono i lati oscuri anche del benessere, in qualche modo l'ho definito così, il lato oscuro del benessere è come la faccia della luna che non è mai rivolta a noi. Quindi davvero raccontare il cielo significa raccontare per gli scrittori del Novecento la Terra e quindi ecco che la letteratura diventa una controstoria, ci racconta anche tutto ciò che va oltre l'ufficialità, perché questa è la grande forza della letteratura, dare voce a chi non ha voce o ai temi che non hanno spazio. E qui si aprirebbe uno spazio, rubo questa parola, sterminato perché dar voce a chi non ha voce, da Pollera a Pasolini, a Buzzati, a Landolfi, a chissà quanti che sono citati in questo saggio che ha il dono della leggerezza e non potrebbe essere diversamente perché se possiamo, se dobbiamo parlare, se vogliamo parlare di spazio bisogna avere il dono della leggerezza altrimenti non si può guardare in alto ed è una luce necessaria che dobbiamo avere noi lettori e poi ovviamente prima di tutto chi scrive il libro come nel caso di Alessandra Grandelissa. Sì, grazie per questa, grazie per aver sottolineato questo elemento del libro. È un elemento che mi sta molto a cuore e mi piace concepire la leggerezza, questa leggerezza proprio come l'ha concepita, no? Italo Calvino. Quindi una leggerezza che però sa affrontare le problematiche, la complessità della realtà e questa leggerezza si è proprio cercata, no? In una forma di saggismo diverso perché mi piace che appunto l'idea che la letteratura arrivi a molte persone e allora ecco che questo libro ha voluto essere fin dall'inizio, fin da quando è stato concepito come un saggio narrativo, quindi un saggio che non rinuncia anche al rigore della ricerca perché il rigore è importante contro delle semplificazioni a cui noi siamo sempre più sottoposti, ma dall'altro c'è una narrazione. Mi piace proprio l'idea, ripeto, di prendere per mano i lettori e di accompagnarli con me in questo volo bellissimo, in questo volo insieme ai tanti scrittori, ai tanti critici nominati e per questo anche il libro è stato concepito come un viaggio, davvero un viaggio da fare collettivamente e fra l'altro i capitoli di questo libro sono scanditi come un countdown, un countdown che ritma la nostra salita al cielo, ma poi ritma anche un ritorno sulla Terra perché lo dicevamo prima, ieri era la giornata mondiale della Terra, il volo nello spazio deve servire per la ricerca, per così colmare anche la sete di conoscenza che fa parte dell'uomo, ma non deve servire per trovare nuovi spazi, solamente nuovi spazi da colonizzare, ecco, da parte di un capitalismo che cerca nuovi spazi da colonizzare, ma deve essere anche proprio un modo per salvaguardare sempre di più il nostro pianeta, senza perderci perderci in quelle che sono le traiettorie a volte pericolose del progresso. E questo countdown a cui faceva riferimento Alessandra Grandelis è stato per me un po' come la Madeleine Proustiana da piccolo, mi ero appassionato ad ascoltare il countdown dove, chissà, dove era riposto in casa, dove su un disco c'era la voce di un certo Werner von Braun, mi affascinava questo nome e lui scandiva, scandiva per l'appunto quel countdown che poi è un countdown che ha portato veramente a cose straordinarie. Ma noi abbiamo sempre parlato in questa conversazione finora Alessandra Grandelis di prosa, di narrativa, ma in questo canto, incanto, disincanto, storia, controstoria, troviamo anche parole straordinarie perché la poesia apre la porta dello spazio in una maniera straordinariamente bella e ci pone sulla soglia dello spazio in una forma che spesse volte noi non vogliamo, non vogliamo nemmeno, non vogliamo, ci ostiniamo a non provare, ma dobbiamo provare la forma poetica per conoscere lo spazio o contemplato dalla luna o quasi il modesto pianeta che contiene filosofia, teologia, politica, pornografia, letteratura, scienze, palesi o arcane, dentro c'è anche l'uomo e io tra questi e tutto è molto strano. Sì, sono versi importanti ma anche perché sono, in qualche modo, la poesia c'è nel libro, ha uno spazio, uno spazio di rilievo perché la poesia è la prima ad aver intrattenuto proprio un dialogo privilegiato con il cosmo ma sappiamo che nella storia anche della letteratura sono anche i cambiamenti a fare la differenza e la conquista dello spazio e della luna davvero è una una cesura fortissima per la poesia perché bisogna in qualche modo rinegoziare quelli che sono anche i territori della poesia rispetto al cielo rispetto al cosmo e rispetto all'infinito proprio anche riallacciandoci a quest'idea del countdown chi ascolta anche il countdown con grande attenzione sono due poeti d'eccezione del novecento come Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale Ungaretti che è proprio la notte dell'allunaggio dice sta avvenendo una cosa orrenda davvero una cosa orrenda in realtà poi Ungaretti cambierà la sua opinione dirà forse in realtà l'idea di mistero può aumentare con questo andare dell'uomo sempre più lontano molto più scettico è Eugenio Montale che ha anche una postura in qualche modo diversa mentre racconta appunto lo spazio attraverso la poesia Eugenio Montale in qualche modo sottolinea come sia davvero illusorio per l'uomo cercare delle risposte che lo riguardano nell'immensità ma il cielo deve essere proprio un modo per ritornare sulla terra tra i poeti che noi troviamo in questo testo ci sono appunto Sergio Solmi il suo lamento del vecchio astronauta è un veramente una poesia di grande fascino di grande fascino in cui un astronauta si perde nell'immensità ma in quell'immensità dice io posso vedere cose che altri uomini non possono vedere ma alla fine che cosa conosco conosco davvero del mondo umano che ho mai conosciuto io delle calde cose che chiamiamo che chiamano il mondo la vita così comincia questa poesia straordinaria sono veramente versi straordinari di un poeta da riscoprire che ha avuto fra l'altro un ruolo importante nella nostra storia letteraria anche come scopritore proprio della science fiction le meraviglie del possibile rimane ancora oggi un'antologia che ha un grande valore appunto nella nostra storia letteraria e poi non poteva mancare Zanzotto Andrea Zanzotto che ha scelto di guardare il mondo e l'universo da un piccolo fazzoletto di terra che è Pieve di Soligo e Zanzotto ovviamente si è sempre interrogato sul progresso su quello che lui definisce il progresso scorsoio e fra gli altri gli scrittori prima di altri si accolgono che con la conquista dello spazio c'è il compimento del progresso di un progresso che deve essere raccontato anche nei suoi limiti anche nei limiti di una crescita contraddittoria ed ecco che allora nel 69 proprio nell'anno dell'allunaggio dalle stampe Zanzotto è stato un poemetto molto complesso ma acutissimo in cui Zanzotto dice l'allunaggio sta distruggendo ha distrutto quello che è il rapporto millenario dell'uomo con la luna e la luna viene svenduta come qualsiasi altro prodotto come se fosse una crema una crema in barattolo e questa mercificazione della luna viene poi potenziata dalla televisione dalla televisione che ovviamente allargano questa questa idea di una luna da consumare a piacimento ma allo stesso tempo Zanzotto non rinuncia non rinuncia alla poesia e allora ecco che lo vediamo ritirarsi su una delle colline appunto del Trevigiano a Cison di Valmarino e da lì da quello che lui chiama l'osservatorio di Dolle dialoga con la luna e dice a noi poeti non interessa se la luna è desolata se non c'è o c'è poca gravità se sulla luna non si può coltivare niente a noi interessa di nuovo ristabilire un dialogo proprio attraverso la poesia e un dialogo che non sia in qualche modo mediato proprio dal dal progresso e dalla tecnica ricordiamo tra l'altro che quest'anno ricorre il centenario della nascita di Andrea Zanzotto ed è anche questo gli anniversari servono anche a questo a ristabilire un contatto laddove non si abbia più con la parola di chi si ricorda ma anche per scoprire lei Alessandra Grandelis chiude il suo libro con queste parole che vorrei ricordare ai nostri ascoltatori prossimi lettori mettendo in campo gli strumenti conoscitivi della letteratura gli scrittori trascinano la scienza nel campo gravitazionale dell'immaginario nell'umanesimo di un'ecologia ambientale ed etica e mi fa piacere chiudere con la parola etica ed ecologia ambientale perché l'ecologia ha un significato veramente sempre sempre più largo è un'ecologia spaziale un'ecologia che arriva dallo spazio fino anche alle nostre coscienze il libro che abbiamo attraversato si intitola il telescopio della letteratura gli scrittori italiani la conquista dello spazio pubblicato da Bonpiani ma prima di salutarci Alessandra Grandelis qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni è il libro che ho appena iniziato l'ho iniziato proprio ieri sera è Quando tornerò di Marco Balzano Marco Balzano Marco Balzano il nuovo il nuovo libro su cui tante cose interessanti si raccontano e speriamo di averlo di nuovo nostro ospite anche qui nel nostro piccolissimo posto delle parole da cui salutiamo Alessandra Grandelis ringraziandola per il tempo che ci ha dedicato Grazie a tutti voi Buona giornata Buona giornata